Ogni anno cerchiamo di rinnovarci, ogni anno cerchiamo di metterci in discussione e ogni anno tiriamo le somme. Guarda questo è un tempo in cui è molto difficile essere completamente strategici, è un tempo storico in cui ci vuole un tatticismo illuminato, quindi sono molto importanti le persone. Ecco è come quando apri il frigo, con gli ingredienti che hai devi fare la miglior ricetta. In questo momento dobbiamo scegliere ingredienti meravigliosi, quello è molto 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 importante. Personalmente lei cosa farà al salone? Ciascuno di noi ha una serie di cose perché poi è impossibile, è interessante questo fatto, è impossibile lavorare su un fronte unico, devi lavorare sempre su moltissimi fronti, è proprio il mestiere del progettista questo, è sfaccettato se vuoi, è low race come direbbero i ragazzini. E quindi aspettatevi i fuochi d'artificio come al solito, ma un po' da tutti, cioè è bello questa grande esibizione immaginata come dei fuochi d'artificio che esplodono soltanto a Milano e la gente viene a guardarli.